Volete avere la certezza di avere visione sul RAI 4K? Beh, lasciate perdere il digitale terrestre. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo contenuto. Oggi parleremo ancora di RAI 4K in quanto sono stato davvero tempestato dei vostri messaggi dove vi avete prospettato le situazioni più disparate ma il succo della situazione, cari amici, non cambia. RAI 4K sul digitale terrestre non si vede. C'è anche chi ha acceso un lumino sperando in un miracolo ma purtroppo nemmeno la divina provvidenza ha funzionato. Scherzi a parte, sono a conoscenza della situazione davvero al limite del surreale e il fatto che la RAI non abbia pubblicizzato questo canale se non direttamente dai cronisti durante le partite che ricordiamoci che è in 4K, quindi una rivoluzione questa cosa deve un attimino far riflettere probabilmente, ed è una mia considerazione però molto attendibile questo è un test su vasta scala che ci sta tutto, cari amici, che si è ben chiaro ma non fatto così. Trasmettere i contenuti in 4K sul digitale terrestre via etere non è per niente il futuro farlo in streaming sì ma manca la pille e la classicità del cambio canale quanti di voi non amano da zon? ve lo spiego io il perché rifiutate la tecnologia e vi perdete in un'applicazione e rimpiaggiete Sky perché accendevate il tv e con il telecomando andavate a mettere sul canale desiderato bene, in questo caso i servizi HBB TV risolvono il problema questo, cari amici, infatti sembra davvero l'inizio del futuro della tv metti su 101 che c'è il RAI 4K che poi si apre un browser web poco importa a qualcuno noi non abbiamo aperto nessun tipo di applicazione premesso di ciò andiamo a vedere cosa sta succedendo e come poter fruire realmente di RAI 4K e anche di altri canali in ultra HD senza avere un santo in paradiso e due dottorati e tre lauree ma prima, cari amici, solito momento supporto lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni e ovviamente non dimenticatevi di seguirmi su TikTok dove do consigli e guide in meno di un minuto se avete bisogno di assistenza informatica gratuita poi scrivetemi su Instagram io vi aiuterò volentieri facciamo un passo indietro per vedere RAI 4K sul digitale terrestre sul canale 101 dove ricordiamoci la trasmissione non avviene via etere quindi tramite onde elettromagnetiche bensì è in streaming via etere viene trasmesso solo l'avviso presente sul canale 101 dove ci dice fondamentalmente quello che dovremmo avere ma non tutto abbiamo bisogno quindi di una TV 4K compatibile con HBB TV 2.01 o superiore una connessione a internet possibilmente non del primo dopoguerra e che il nostro dispositivo sia compatibile con le certificazioni DRM ovviamente cari amici è necessario anche un santo in paradiso possibilmente di alto rango scherzi a parte questo è qualcosa di straordinario importante per vedere che versione HBB TV abbiamo sul nostro TV è quasi un'impresa infatti viene visualizzato il profilo ora per avere HBB TV 2.01 bisogna avere il profilo 1.41 superiore qualcuno ce lo dice no infatti cari amici è davvero un casino prima di darvi un'alternativa per vedere Rai 4K e anche altri canali in Ultra HD voglio spiegarvi perché tre dottorati e una decina di lauree non bastano per visualizzare Rai 4K o quantomeno per capirlo quando dunque cari amici si abbia un televisore idoneo partiamo dal presupposto che il tutto avviene per problemi prettamente informatici e in alcuni casi per limiti hardware andiamo a vederne qualcuno c'erano televisori che sulla carta sono compatibili ma che prima funzionavano e ora con la trasmissione del mondiale o non vanno o vanno davvero male su tutti Sony e Xiaomi questo perché sono stati introdotti i DRM che altro non sono che un sistema per il controllo dei contenuti per la visione dei mondiali sui tv Xiaomi compare una netta dicitura DRM non supportati sui Sony invece il contenuto va a scatti ma nelle pubblicità dove i DRM non ci sono ad esempio il tutto va estremamente liscio risoluzione di ciò un aggiornamento software un canale HBBTV cari amici infatti non è nient'altro che un'applicazione HTML che gira all'interno di un browser TV ora un browser non fa nient'altro che interpretare il codice HTML quante volte vi è successo di sentire quel sito non aprirlo con quel browser perché altrimenti non carica bene la pagina a me tante soprattutto nel passato mi viene da pensare che molti sistemi della mia università fino a poco tempo fa funzionavano solo con Internet Explorer e cari amici qua avete ben capito che c'è un bel inghippo perché questo inghippo? perché i browser TV fanno semplicemente schifo sembra di vedere Internet Explorer di Windows 95 semplicemente perché non sono aggiornati e perché non sono aggiornati? perché non ce n'è stato mai bisogno visto gli utilizzi sporadici in questo ambito a questo punto e la tentazione è forte dovrei parlarvi di user agent richiesta HTTP, codice JavaScript e quando un quel solo pensiero mi entusiasmi oltre a fare un video da due ore che probabilmente nessuno se non gli ha detti ai lavori capirebbe rischierei che il prof.gb che guarda ogni suo studente dall'alto se dico qualche pirlata mi faccia fare alla fine di LHAC se non sapete chi è LHAC probabilmente non avete avuto un'infanzia felice scherzi a parte vi dico semplicemente che molti TV non vanno perché non sono identificati questa è veramente una cavolata come 4K o quantunque lo siano lo so sembra una barzelletta ma è così anche qui colpa o presunta tale dei produttori e un aggiornamento software risolverebbe il problema perché presunta tale? perché un vero colpevole cari amici non c'è la RAI sta trasmettendo si seguendo uno standard 4K l'HBTV 2.01 e DRM ma c'è da dire che lo fa non curante che nessuno lo aveva mai fatto prima non pensando poi che alcune specifiche vengono utilizzate solo in Italia tempo fa vi racconto un breve aneddoto parlando con il product manager di una nota azienda italiana chiedendogli il perché il loro prodotto non avesse il supporto ai servizi HBBTV mi disse semplicemente che era un gran casino e che non l'avrebbe mai fatto il tono fu anche abbastanza perentorio lì per lì rimasi un po' basito ma con il senno del poi ovviamente aveva ragione e ora cari amici comprendo appieno molti produttori non hanno aggiornato le parti software riguardanti i servizi HBBTV da molti anni un'eternità per l'informatica semplicemente perché non utilizzate e non ce n'era bisogno quindi codec, browser, DRM sono altamente inefficienti obsoleti e pesanti per un hardware che è meno potente di uno smartphone di fascia bassa il vero problema è che come già detto la RAI ha fatto un esperimento e qua ci sta tutto ma anche se non lo ha pubblicizzato in pompa magna prima durante le partite i cronisti lo hanno fatto infischiandosi che in molti vedevano schermo nero e dimenticando di citare una cosa di cui vi parlerò ora ovvero di RAI 4K via satellite sulla piattaforma TVSAT ricordiamoci cari amici che lo switch off di cui sta parlando in questi giorni non c'entra una beata mazza con il fatto che RAI 4K non si vede c'è da dire poi che il digitale terrestre nella sua forma classica ha dei grossi limiti dal punto di vista della qualità delle immagini infatti è molto indietro basti pensare che ancora vengono trasmessi i canali in standard definition che sono cari amici del paleolitico canali che verranno spenti a dicembre da qui tutti gli avviserà i canali che vedono ancora circa 2 milioni di italiani il problema poi del digitale terrestre è che non garantisce la visione che cosa vuol dire? ve lo spiego subito dove abito io posso realizzare anche il migliore impianto del mondo come ho cercato di fare nel corso del tempo ma i canali sono comunque instabili e basta un po' di maltempo e addio tv ai tempi in cui si stava Mediaset Premium ho fatto solo tante imprecazioni ma questa cari amici è un'altra storia ma quindi com'è possibile guardare i contenuti in alta definizione in 4K senza avere un santo in paradiso? beh è semplice attraverso la piattaforma tvsat con l'ausilio di questa cam in 4K ora se hai una tv di nuova generazione se guardi bene c'è una fessura di lato o potrebbe esserci un attatore come questo che ti mostrerò a video che ti permette di inserire la cam per poter usufruire della piattaforma satellitare tvsat il tv ovviamente deve anche avere il tuner tvs2 che è quel connettore a vite vicino a quello a pressione del digitale terrestre ma nelle nuove tv c'è praticamente in tutte il mio ovviamente è un ragionamento abbastanza empirico la piattaforma tvsat cari amici vi dà oggi e questo è un concetto abbastanza eloquente quello che forse e sottolineo forse il digitale terrestre vi darà tra anni infatti abbiamo più di 70 canali in HD e ben 7 canali in ultra HD RAI 4K compreso quindi cari amici volete vedere RAI 4K e avere la certezza di visione senza dovervi scelverlare semplice lasciate perdere il digitale terrestre perché è un imprecare continuo e ve lo dice una persona a cui questo tipo di grattacarpi piacciono e passate alla piattaforma tvsat sul satellite vi ricordo che usufruendo dei canali tv attraverso il satellite quindi montando una parabola si ha non solo la certezza della visione ma anche una qualità video migliore infatti come dicevamo prima abbiamo oltre 70 canali in alta definizione e ben 7 canali in 4K ora se vi state domandando perché a casa vostra non c'è il satellitare beh la risposta è semplice il digitale terrestre è più duttile e meno costoso infatti per poter vedere la tv attraverso l'impianto satellitare abbiamo bisogno di un decoder e della relativa scheda tvsat 4K vengono prodotti anche in HD ma qua stiamo parlando di prodotti in Ultra HD questo decoder lo produce solo DigiQuest vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione la mia recensione oppure abbiamo bisogno di questa cam che ci abilita alla visione dei canali quindi cari amici la piattaforma tvsat tipicamente viene utilizzata nelle zone d'ombra ad esempio nel paese dove vivo io tutti e sottolineo tutti hanno la piattaforma tvsat in pochi riescono a utilizzare il digitale terrestre perché sarebbe un imprecare continuo non c'è molto altro da dire cari amici è inutile annoiarvi con tecnicismi copiando da wikipedia che cos'è la piattaforma tvsat il messaggio che voglio che vi arrivi è che attualmente per vedere la tv in 4K affidarsi al digitale terrestre è come guardare le giocate di balotelli e sperare che venga il pallone d'oro possibile sì probabile penso proprio di no quindi se volete guardare la tv in 4K dovete munirvi se l'avete già fatto di una parabola e per ogni tv dovete avere o un decoder tvsat 4K o di una cam 4K sono tutte fondamentalmente uguali cambia solo il marchio di chi la va in scatolare link ovviamente sotto in descrizione altro vantaggio della piattaforma tvsat che funziona anche all'estero non in tutto il mondo che si è ben chiaro ma in tutte le zone coperte dal segnale satellitare hotbird a 13 gradi in Europa mediamente non ci sono problemi prima di salutarvi voglio fare una considerazione probabilmente siamo di fronte all'inizio di una nuova era in quanto i classici canali saranno trasmessi sempre via etere ma i nuovi contenuti 4K saranno disponibili solo attraverso i servizi HBBTV e qui la palla passa ai produttori delle televisioni che dovranno effettuare un massivo aggiornamento dei dispositivi lo streaming è il presente ed è anche il futuro bisogna farse una ragione per qualsiasi dubbio o chiarimento commentate qui sotto nel video o scrivetemi su Instagram o nel gruppo di supporto Telegram aiuto veramente tutti bene cari amici per questo video che è stato pensato come flash ma poi ho rivisto in un'ottica completamente diversa è veramente tutto mi raccomando condividetelo noi ci vediamo in un prossimo contenuto attivate la campanella per non perdervelo un saluto dal mastro di YouTube che ora è anche su TikTok dell'Italia per i mi